Innamoratevi del vostro territorio, rinnamoratevi del vostro territorio e esportatelo. Cercate di... e mangiate bene. Allora, io vivo sostenibile oggi, giornata bellissima, sole spettacolare, grazie alla fortuna che ci porta l'assessore Cadedo del Turismo, tantissima gente, ma qui... Abbiamo ordinato una settimana fa il sole... Tutti piangevano che veniva la pioggia, no? Sì, 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 ma invece non sapevano che l'amministrazione ha un asso nella manica e può influenzare quindi anche il tempo. A fianco a te ci sono tantissimi personaggi illustri della Liguria e della Toscana sulla mia destra, giusto? Sì, che tra l'altro ringraziamo il giornalista Rido Vannucchi. Fotografo, fotografo. Poi ho sbagliato per la seconda volta. Però ti posso assicurare che è anche un ottimo giornalista. Non lo dice. Ma siccome abbiamo avuto occasione di lavorare con lui... Pubblicista. Pubblicista. È un ottimo personaggio. Ci fa molto piacere questa cosa qui. E poi? Il grande chef o cuoco, come ha detto di essere, perché è chef quindi è un'altra cosa. Non so se è vero. L'unico problema è che è di Viareggio. È vero, è di Viareggio. No, è l'unico aspetto negativo. No, scherzo. Però adesso si può dire che è di Lucca. È di Lucca. No, no, di Lucca... Lavora a Lucca, lavora a Lucca, lavora a Lucca. Sì, 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 con grande piacere. Racconti di questo progetto che stai realizzando a Lucca, che è una cosa, secondo me, molto bella. Quello che hai raccontato oggi. Lo facciamo conoscere a tutti gli amici che ci guardano. Ma è un progetto semplicissimo. Affiancato al ristorante, chiamiamolo Madre, che rimarrà nel Museo di Arte Contemporanea di Lucca. L'imbuto, cioè Satura, che è questo progetto nuovo di condivisione con artigiani di zona. Quindi è un posto dove si può fare la spesa, si può mangiare due piatti. E un posto dove si possono fare eventi, dove collaborerò con gli amici, i colleghi. Facilissimo. E noi possiamo essere anche la parte mediatica, vi può interessare? Ma dipende, vediamo il contratto, come si può chiudere. È certo. 120.000 euro per le royalties va benissimo. Allora, Ricciardi, qui a fianco a te c'è una bellissima donna, ce la presenti? Sono l'assessore Valentina Maltanti, del comune di Amelia. Allora, cultura perché anche il cibo è cultura, come dire, ed è condivisione, come diceva giustamente, il nostro chef più che stellato a livello di idee, perché è questo che manca qui, no? L'idea è la condivisione reale, perché appunto, come diceva lui stesso, in televisione godiamo di una condivisione meramente di immagini, senza i profumi, e ciò che serve per fare cucina vera. In un laboratorio così è proprio un'ottima idea per condividere l'esperienza con grandi chef e per mangiare con la M maiuscola. Ecco, a fianco a te Ricciardi, noi l'abbiamo conosciuto in questi giorni, ci ha presentato la sua cucina, noi lo conoscevamo già, però è l'uomo del territorio che fa il cibo del territorio e lo va a prendere sul territorio, senza farselo portare a casa, ma perché lo va a scegliere proprio direttamente sul campo. È un pezzo, è un pezzo di territorio, sì, in effetti sono un pezzo del territorio. No, sono felice di questa cosa e come diceva prima Cristiano, noi siamo sempre in movimento, il problema è che non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, noi lavoriamo per essere felici prima di tutto, poi è chiaro che, lo riconfermo, un piatto, te lo ricordi, un piatto viene bene, un piatto non si manda proprio fuori, perché l'idea è andata da un'altra parte, però tutte le mattine dobbiamo essere in movimento, non puoi sperare tutti i giorni che ti arriva la cassettina, mettergli due cose, l'hai fatto, l'hai pulito, non è... Ci raccontavi per esempio quello delle erbette, della contadina? Quando ti portano queste cominci a condirle, farle fritte, farle secche e poi le metti in tavola, ma non è che vuoi dare un piatto di insalatina per fregare il cliente, gli dai un piatto di cose che non ha mai mangiato e c'è pieno. Allora, l'ultima parola la lasciamo al giornalista, al fotografo, al grande fotografo dei cuochi. Qual è la più bella fotografia che hai fatta a Tomei e al grande chef Mauro Ricciardi? Quella che farò domani, perché più li conosco e più riesco a fotografarli bene. Credo di aver fatto entrambi degli ottimi ritratti, ma sicuramente li aspetto al barco domani. Voglio aggiungere una cosa sul Lido, che è un amico, no? Che Lido, insieme a un altro che posso citare, penso, che è Bob Noto, loro sono dei veri fotografi di food, come si dice ora, no food, no di cibo, perché loro, prima di fotografare, mangiano e quello è fondamentale. Quindi, chi viene a mangiare con quei cavoletti che fanno le foto? Non fotografate, mangiate e poi la volta dopo venite a fare le foto, ok? Grazie. Un saluto a tutti gli amici di Spezia TV.